buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sabato mattina allora io mi sono svegliata ieri mattina con le labbra tutte screpolate perché quando inizia ad esserci il vento soprattutto in questo periodo marzo un vento ancora piuttosto freddo mi si screpolano le labbra questo problema ce l'ho da quando io ero una bambina e praticamente da piccina ogni volta che faceva magari più freddo o magari a causa di un vento forte o una gita in montagna mi si screpolavano tutte le labbra ma non come adesso solo il contorno e la parte interna vedete che tutto piuttosto rosso proprio fino qua sotto il naso ma una roba terrificante terrificante come iniziava a screpolarsi un pochino il labbro boh saliva il terrore perché sapevo già che tutta la screpolatura sarebbe poi nei giorni peggiorata allora appunto sabato mattina noi questa mattina andremo a nuoto e poi andrò a fare la spesa perché domani verranno due nostre amici a cena con i bimbi il grande ha tre anni la piccolina invece più piccolina un anno e mezzo verranno qua a mangiare la pizza farò la pizza con il forno ferrari e volevo organizzarmi diversamente nel senso che per evitare di infornare tutte le pizze perché un conto se ci sono fede mauro non ho problemi a venire in cucina e infornare le pizze se ci sono loro vorrei passare più tempo con loro quindi la mia idea era quella di allora farle poi iniziare a metterle all'interno del fornetto farle cuocere a metà e poi una volta che arrivano poi gli ospiti le vado a rimettere dentro e sono poi tutte tutte pronte quando quando ci sono loro tutte due alla volta allora adesso vado a prepararmi perché appunto oggi è giornata di nuoto e oggi volevo mettere per la prima volta perché l'ho lavato in settimana volevo mettere la salopette e speriamo che vada bene perché vi dico la verità non l'ho provata prima di lavarla l'ho messa in lavatrice e il jeans è tendenzialmente quando si lava si streggio un po però vediamo vediamo io adesso la oggi la provo e poi vi ve la faccio vedere allora vado a rifare i letti e ci vediamo un po e dopo un po e dopo Grazie a tutti. 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 da Zara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con il collo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.